Poi la melodia sempre rinforza queste note, come l'inizio e la terza, quinta, sale, ecco la dominante, perché se pensiamo a Do maggiore e poi Mi settima, questo Sol che sale, no? Poi di nuovo faccio la stessa cosa però relazionato al quarto grado. Quindi questo parallelismo è interessante dal punto di vista della struttura melodica e il rapporto che c'è tra queste dominanti secondarie nelle voci interne, no? Uno può anche accompagnare sfruttando questa cosa. Grazie a tutti. Questi rapporti di melodie che camminano all'interno che non sono la melodia del brano, non stavo facendo la melodia neanche parafrasandola. Sono melodie all'interno dell'armonia che vanno, diciamo, è una cosa interessante come filo conduttore per le tue scelte di accordi, no?